Buonasera. Milano News non è solita parlare di notizie di cronaca nera o di fatti criminosi, ma la vicenda di Assago di ieri non può lasciarci indifferenti. Soprattutto non può lasciarci indifferenti il modo in cui la stampa ha trattato la notizia, la sottolineatura della nazionalità del defunto, completamente inutile fine della notizia, l'utilizzo di parole molto pesanti verso il colpevole di un atto che sì è criminoso e coento, ma che denota sicuramente, e anche il passato della persona interessata lo dimostra, un disagio mentale molto probabilmente sfociato in malattia mentale. Ed infine la sovraesposizione del profilo di una delle persone ferite solo perché è giocatore del Monza Calcio. Milano News non si accoda al coro della stampa e non si ferma quindi a denunciare solo l'increscioso atto criminale. Crediamo invece fortemente che questa vicenda sia semplicemente, nella sua drammaticità, figlia e anche vetrina del nostro tempo, del momento che stiamo vivendo. Al netto dei danni che la pandemia ha lasciato nelle menti di molti di noi, nella psiche con danni psicologici e psichiatrici davvero gravi, la vicenda di Assago ci fa interrogare ancora una volta di più su quanto siamo impreparati a gestire e trattare il disagio mentale che spesso poi può sfociare in vera e propria malattia mentale. Depressioni, comportamenti sociopatici, disturbi della personalità e tante altre patologie si possono ormai giornalmente riscontrare in tanti di noi milanesi che viviamo questa grande ma spesso troppo egoista città. Non possiamo più scherzare, non possiamo più perdere tempo, non possiamo più sottovalutare il tema. Ieri, su quel pavimento freddo di una corsia del carrefour di Assago, a terra, non è rimasto solo il corpo inerme di un lavoratore, di un milanese del 46enne Luis Fernando Ruggeri. In quella corsia, in quella pozza di sangue ci siamo anche tutti noi, con le nostre sensibilità e con le nostre facce girate dall'altra parte ogni qual volta ci sia capitato di incontrare un disagio. Il disagio ci spaventa, il disagio mentale ci rende superficiali ed egoisti. Facciamo finta di non vederlo. I malati sono sempre gli altri, sì. Finché un bel giorno non finiamo con un coltello nella schiena o peggio ancora con le mani sporche di sangue.